Non ha deluso le aspettative, anzi ha catalizzato tutto l'entusiasmo del pubblico che per ogni appuntamento ha affollato il Teatro Verdi di Sassari. Si è confermata una delle manifestazioni più attese delle festività natalizie sassaresi, il Festival To Be In Jazz, i concerti aperitivo, organizzato dall'Associazione Blu Note Orchestra in collaborazione con la cooperativa Teatro e Eumusica. Tre nuove produzioni scritte e arrangiate appositamente per l'OJS e il doppio concerto natalizio hanno portato sul palco artisti di fama internazionale con omaggi a musicisti e album che hanno fatto la storia del jazz. Dalla coinvolgente e tormentata arte del sassofonista americano Art Pepper negli arrangiamenti di Gabriele Comeglio allo spettacolo dedicato all'immensa Johnny Mitchell, scritto da Michele Corcella con la voce di Erika Mu, passando per il viaggio musicale di Edei in Barcelona, progetto di Duccio Bertini e Susanna Scema. E poi il gran finale con il Natale in swing, un grande classico delle feste con l'orchestra jazz dalla Sardegna Laboratori, affiancata dal coro della polifonica Santa Cecilia e l'intensa voce solista di Dennis Gay. Grazie alla collaborazione con il Museo del Vino Enoteca di Berchidda, To Be In Jazz ha potuto ritrovare il gusto della convivialità con gli aperitivi organizzati a fine spettacolo, ma soprattutto, dopo la pausa forzata causata dalla pandemia, quello di suonare dal vivo, linfa vitale della formazione attiva da oltre 30 anni. Fare musica dal vivo è la cosa più importante, quindi avere proprio il contatto con il pubblico che applaude, che respira insieme alla musica è la cosa fondamentale, per cui, insomma, questo momento è troppo importante per la musica in generale, per la nostra orchestra che ha necessità proprio di confrontarsi. Grazie a tutti.